Bentornati nel canale delle Burnia, sono su PES Mobile e vi faccio l'aggiornamento da qui. Vediamo che aggiornamento c'è, ma non credo niente, quindi c'è queste cose che non siamo nevoli. Lo faccio da qui perché non c'è voglia di accendere il gameplay. Poi tra lag, script e varie cose, questa settimana passata non schifo, ma sono tentato di non portare neanche più contenuti. Grazie. 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 Italia Della Juventus Piede sinistra Di Bala Se sbaglio C'è lo già Mi sa che è anche quasi livellato Di Bala Andiamo A quello là 96 di Marcoli Vella Mi vado su di Bala A me la mente Bala gli dà 7000 Bello livello Mi vado su di Bala Siamo Il nostro corso Il nostro corso è stato un figlio ross andre rara che c'è e l'isso brazoic crescivi da valverde e pol d'endocchi deliski labio oppa marconios braun omar mascarella rice ghimich paredes ectol peterin avarda laksanararno sergi roberto padraro trafu davis urza varina aldo roberts androide alma aldizara zo zuma maripang romanioli ake denaier milankovic gabriel magayares equire minks gintar intiti e nego martinez a chayelvi manolastia rocilla urtua aldizon loris davide gaia e silisa e questa è la squadra come l'ho messa io che è così e questa è la panchina ronaldo vedete ronaldo maradona messi ross chimici polissa davis romagnoli denaier sanerardo porta c'è purtroppo panchina zuma pavarda marquinias andrea herrera the blue indibala ma per 2606 vabbè per l'aggiornamento è tutto un salutone saluto gli amici di youtube chris26martin elucuanito77 e white tiger gb un salutone a tutte le persone che mi seguono un salutone a bolis a pep a lorenzo al mio compagno di avventure su warhammer dromu79 un salutone ciao ciao ciao